Musica Prosegue il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi su tutto il territorio cavese. Nei giorni scorsi i operatori della Metellia Servizi hanno scoperto due vere e proprie discariche a cielo aperto in diverse zone della città. Nello specifico sono stati ritrovati in via della Corte otto buste contenenti frammenti in cartongesso di circa 200 kg, mentre nelle traverse di via Vitale sono stati abbandonati circa 70 kg di guaina di asfalto. Gli stessi operatori della Metellia hanno segnalato la pericolosità dei rifiuti abbandonati agli organi preposti. E proprio il miglioramento della raccolta dei rifiuti sul territorio cavese è una delle priorità del riconfermato assessore all'ambiente Nunzio Senatore. Abbiamo alcune criticità che dobbiamo risolvere insieme alla Metellia per quanto riguarda il conferimento. Cercheremo di fare dei controlli più assidui con delle nuove tecniche, anche con delle camere. In questi primi quinquenni abbiamo messo in campo, però abbiamo avuto dei problemi normativi. Abbiamo ripreso questo progetto per dare maggior impulso al controllo di coloro che effettuano i conferimenti fuori orari, anche in maniera interrata. Per quanto riguarda l'ambiente abbiamo a cuore anche alcune attività importanti per quanto riguarda anche il piano di mobilità della nostra città. Abbiamo in programma di fare qualche pista ciclabile, incrementare anche l'utilizzo dei veicoli elettrici attraverso l'installazione di altre colonnine per la ricarica elettrica. Cercheremo di incentivare anche l'utilizzo di fonte alternative, quali i pannelli solari. Abbiamo un discorso anche con la subintendenza per dare la possibilità ai nostri cittadini di montare sui detti questo tipo di pannelli. Quindi tutte cose molto importanti che abbiamo messo in campo. Speriamo di dare delle risposte importanti ai cittadini.